Salve a tutti! Oggi sono qui per farvi un grande annuncio. È già da qualche giorno che circolano voci, rumors sui quotidiani e i vari canali di comunicazione. Ebbene, vi confermo che questi rumors sono veri e vi annuncio in via ufficiale che il gruppo Lupi Auto SPA è il miglior concessionario Hyundai Italia 2021. Grazie. Grazie. Siamo molto felici di questo traguardo, ma vorrei ricordare che tutto questo è stato possibile grazie al nostro impegno costante e soprattutto a voi che da sempre siete il motore fondamentale della nostra azienda. Grazie.